La risoluzione è di estrema importanza perché si tratta della modifica di ciò che viene considerato aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura e della pesca. Voglio aggiungere che grazie ad un emendamento che è stato portato da Valore e Abruzzo, e sono qui presenti i miei colleghi Marco Vecchio e Di Gianvittorio, abbiamo anche chiesto alla Commissione europea di prevedere ad hoc degli specifici aiuti per ciò che riguarda il discorso dell'energia. È cronaca quotidiana dei pescherecci che restano in banchina per l'elevato costo del gasolio perché diventa antieconomico ed improduttivo uscire in mare con questi costi, ma lo stesso problema lo si ha nell'agricoltura per ciò che riguarda i mezzi agricoli. Questa nostra proposta, assieme all'intera risoluzione, dove sono stati accolti tra l'altro i suggerimenti delle varie associazioni e dei portatori interessi, quindi delle associazioni degli agricoltori, dei pescatori, eccetera, è stata approvata all'unanimità e questo è un motivo di orgoglio, un buon risultato per la Regione Abruzzo. Speriamo adesso soltanto che la Commissione europea tenga presente delle difficoltà economiche importantissime dei settori produttivi dovuti al caro combustibile.